Avete creato tantissimi gruppi di lavoro a distanza potenziali, è arrivato il momento di parlare di come gestire gruppi di lavoro e il networking a distanza e lo facciamo con Isabella Tomasucci. Buonasera a tutti, io sono Isabella Tomasucci e sono una copywriter, mi occupo di scrittura e creazione di contenuti e mi capita molto spesso di lavorare all'interno di quelli che chiamiamo virtual team, cioè di lavorare da remoto insieme ad altre persone. Credo che questa sia una situazione che accomuna molti di noi in questa stanza e non so com'è per voi lavorare da remoto in team, però io ho avuto esperienze buone ed esperienze pessime e alla luce di queste esperienze pessime ho cercato di fare qualche ricerca online per sentirmi meno sola e per capire se c'era qualche metodo, qualche tecnica, qualche best practice che potesse aiutarmi. La prima cosa in cui mi sono imbattuta era una ricerca di un economista americano che aveva monitorato il lavoro di una serie di virtual team e era arrivata alla conclusione che in realtà è una gran figata perché siamo il 10% meno produttivi quando lavoriamo da remoto in team su compiti non creativi ma magicamente quando lavoriamo su compiti creativi la nostra produttività addirittura cresce del 20%. Adesso non so quanto vi convince i risultati di questa ricerca, mi convincevano così così. Andando avanti mi sono imbattuta in un altro sondaggio, questa volta condotto da Mural.com che è un tool per il brainstorming online che aveva intervistato 275 creativi e quello che era venuto fuori è che solo il 15% di questi creativi si riteneva davvero soddisfatto del lavoro da remoto, poi c'era un'ampia zona grigia e addirittura il 46% si riteneva proprio frustrato. I motivi di frustrazione erano principalmente quattro, difficoltà di comunicazione, difficoltà a costruire relazioni interpersonali, mancanza di spontaneità e mancanza di stimoli. Ora, per quanto riguarda le esperienze che all'inizio avevo definito pessime, io mi riconosco perfettamente in questo quadro e mi sono detto ok, sicuramente ci saranno degli strumenti che mi aiutano a sistemare queste cose e ho iniziato a provarne diversi che sicuramente conoscete, parliamo di tool di project management come Asana, Trello, Basecamp tool per organizzare le conversazioni come Slack, ho abbandonato Skype, sono passata a Hangout, poi a Zoom eccetera eccetera il risultato è stato che sì, dal punto di vista organizzativo il lavoro sicuramente migliorava ma c'erano ancora dei problemi soprattutto per quanto riguarda tutta la parte che precedeva l'operatività vera e propria la parte di ideazione, la prima parte del lavoro quando il gruppo si riunisce e magari sta lavorando a una campagna di comunicazione, allo sviluppo di un prodotto, di un servizio, di un business deve sviluppare un'idea, magari il gruppo non si conosce, non ha mai lavorato insieme e lì tutti questi strumenti insomma non è che proprio risolvevano questi quattro problemi qua quello che ho capito è che non è solo questione di strumenti, non è solo questione di tool quando creiamo un gruppo di lavoro in presenza investiamo sì sull'ufficio, sugli strumenti sull'aspetto tecnologico ma investiamo tantissimo sulla parte umana, sull'aspetto umano quindi andiamo proprio a fare team building, a costruire un team spesso, non dico sempre ma spesso, quando creiamo un team virtuale ci sentiamo esonerati a tralasciare un pochino questa parte umana, in realtà è cento volte più importante proprio perché la distanza aumenta i potenziali problemi quindi innanzitutto investire un po' di tempo per conoscersi prima di iniziare perché solo così riusciamo ad elaborare, a instaurare un clima di positività e di fiducia più siamo distanti più bisogna lavorare sulla chiarezza delle deadline, degli obiettivi, dei valori, del perché stiamo facendo una determinata cosa così come faremo in un gruppo fisico, anche in un gruppo virtuale dobbiamo stare attenti a limitare gli atteggiamenti dominanti che ci possono stare sono persone più estroverse, più introverse, persone che tendono a dominare il lavoro e l'altra cosa che ho imparato è che nei team virtuali bisogna investire in quello che chiamiamo digital body language, nel linguaggio del corpo che sembra un paradosso perché il corpo non c'è, siamo in web conferencing se stiamo facendo una call su Skype, ma proprio per quello ci dobbiamo investire di più spesso facciamo le call su Skype mostrando solo la faccia basterebbe fare un metro indietro dalla scrivania per mostrare tutto il busto a quel punto la nostra gestualità, la nostra fisicità entra nella conversazione e ci sentiamo tutti un pochino più vicini ovviamente per fare questo ci serve che la tecnologia ci supporti quindi imprescindibile una connessione, li ho scritto buona ma direi ottima perché una connessione che non è ottima uccide la spontaneità di qualsiasi conversazione degli schermi abbastanza grandi che ci permettono di fare la condivisione degli schermi e quindi di guardare tutti contemporaneamente i sussidi visivi, i materiali su cui stiamo lavorando materiali che devono assolutamente risiedere in cloud condivisione degli schermi e cloud è l'unico modo per ottenere una vera e propria scrivania condivisa anche a distanza e poi aiuta anche a avere degli strumenti tipo Slack per tenere le conversazioni ordinate ma tutto questo come si applica al processo creativo? il processo creativo si compone di cinque fasi la preparazione, l'incubazione, l'insight, la valutazione e l'elaborazione spesso ci concentriamo, quando parliamo di project management e di team management ci concentriamo molto sull'elaborazione cioè su come gestire la parte operativa del lavoro tralasciando tutta la fase che la precede partiamo dalla preparazione la preparazione è quel momento del processo creativo in cui prima andiamo a raccogliere informazioni a studiare il campo su cui siamo per metterci al lavoro e poi cerchiamo di generare idee nuove sono due momenti ben distinti una parte è un lavoro di ricerca e di studio individuale una parte è un lavoro di confronto collettivo come facciamo a farla a distanza? sulla ricerca individuale non cambia nulla quello che cambia è che gli output che dobbiamo fornire ai nostri collaboratori devono essere veramente chiari perché poi non posso perdere le ore in una teleconferenza spiegare quello che è venuto fuori da un questionario con il cliente o quello che è venuto fuori da n ore di ricerca devo essere molto chiaro, molto sintetico invece per quanto riguarda la parte di generazione delle nuove idee sappiamo che lo strumento principe utilizzato in questa fase del lavoro è il brainstorming ora non so che rapporto avete voi con il brainstorming io personalmente non l'ho mai amato tantissimo ma non solo nei team virtuali anche nei team in presenza il problema del brainstorming ci riporta a quello che dicevamo prima gli atteggiamenti dominanti spesso una minima parte del gruppo domina la maggior parte della conversazione questo in un team virtuale si accentua anche perché è vero che siamo in teleconferenza ma ognuno in realtà sta nel proprio cantuccio nel proprio ufficio e si sente autorizzato a scomparire se vuole dalla conversazione una delle soluzioni che ho sperimentato con successo per arginare questo problema è il brainwriting brainwriting è una tecnica che si può utilizzare anche in presenza e comunque più performante del brainstorming perché consiste nello scrivere ciascuno sul proprio foglietto le idee che normalmente avremmo dovuto dire ad alta voce con una persona che le scrive su una lavagna in presenza semplicemente si fa di solito in sessioni da 5 minuti in cui ognuno ha il proprio foglietto scrive tre idee su quel foglietto lo passa al collega alla sua destra e si ripete in 4, 5, 6 sessioni da 5 minuti oltre a generare molte più input di una sessione di brainstorming normale evita il problema della dominanza come si fa a farlo online? abbiamo parlato tante volte oggi con un google spreadsheet con un documento in cloud un foglio di calcolo ogni partecipante ha la sua riga e compila le idee nelle colonne ovviamente tutti contemporaneamente la bellezza di un google spreadsheet condiviso è che tutti possiamo scrivere contemporaneamente su quel foglio ovviamente il brainwriting ci permette di usare qualsiasi tecnica possono essere idee random possiamo usare tecniche di esercizi creativi di vario tipo qui ne ho messi alcuni ma ovviamente dipende da cosa state lavorando state lavorando una campagna di comunicazione state lavorando lo sviluppo di un nuovo prodotto potete farlo con le immagini quindi anziché creare un google spreadsheet magari create una board di pinterest condivisa e il vostro brainstorming lo fate con le immagini diventa una sorta di brain picturing potete anche usare carta e penna sembra una contraddizione ma potete farlo davvero in maniera tradizionale il brainwriting fare una foto col telefono e caricarla su una board di pinterest condivisa sembra una perdita di tempo ma anche qui la calligrafia la scrittura a mano come l'inclusione del boost quindi del linguaggio del corpo nella conversazione avvicina le persone oltre che molti si sentono molto più a loro agio a scrivere con carta e penna che a scrivere al computer finita la parte di generazione delle idee che a questo punto è tutta in cloud e quindi è tutta condivisa c'è la fase di incubazione la fase di incubazione è per sua natura solitaria è quel momento in cui ragioniamo rimuginiamo su quello che è sugli input che sono venuti fuori nella prima fase in questa fase siamo da soli pensiamo, annotiamo eventualmente possiamo anche condividere i nostri ragionamenti se ci va ma è sufficiente farlo con dei meeting informali i meeting informali in questo caso aumentano ancora di più la coesione del gruppo quando lavoriamo in presenza parliamo alla macchinetta del caffè in ufficio parliamo del corridoio per le scale in ascensore quando lavoriamo online ci troviamo solo ed esclusivamente per lavorare invece possiamo creare dei piccoli momenti di condivisione che sostituiscano i momenti di chiacchiere informali che faremo in un ufficio in presenza ovviamente l'incubazione è finalizzata a trovarla un'idea quindi è giusto, dicevamo prima chiarezza delle deadline degli obiettivi per cui la fase di incubazione deve avere una tempistica precisa alla fine del quale deve venire fuori un insight deve venire fuori un'idea ora che cos'è un insight? dipende da ci sono mille definizioni di insight dipende ovviamente da cosa state lavorando però è quello che vi fa dire wow, questa potrebbe essere l'idea geniale su questa cosa è la prospettiva diversa che trovate sul problema a cui state lavorando ora, in un gruppo creativo può succedere che tutti lavorano alla creazione di un insight può succedere che ci lavorano solo alcuni e gli altri invece sono solo coinvolti nelle altre fasi al di là di come è strutturato il gruppo un buon insight si può scrivere in due, tre, quattro righe e una volta che un insight è scritto in quattro righe è chiaro condivisibile con gli altri anche qui gli insight vanno pubblicati in cloud in questo caso più che farlo tutti insieme ognuno con i suoi tempi è utile utilizzare un moderatore io invio il mio output a un membro del gruppo che è incaricato di caricarli tutti in cloud in contemporanea in questo modo non ci influenziamo a vicenda l'altra cosa importante è concedersi tempo se facciamo direttamente una call per in cui ognuno presenta la propria idea presenta il proprio insight quello che succede spesso è che si lasciano feedback espressi molto di petto in modo poco costruttivo averli condivisi in precedenza ci aiuta invece a lasciare dei feedback costruttivi magari in maniera anche scritta nel solito google spreadsheet di prima in attesa di fare una riunione per la valutazione delle idee la fase di valutazione non che sia molto diversa da quella che faremo in presenza è fondamentale che tutti parlino è fondamentale che tutti commentino e esprimiano la propria opinione la propria idea su gli output che sono stati presentati dagli altri è fondamentale che i criteri di valutazione siano condivisi quindi di nuovo la chiarezza e soprattutto tutte le annotazioni che vengono prese in questa fase devono di nuovo risiedere in un documento condiviso in cloud perché ripeto è l'unica maniera che abbiamo per condividere virtualmente una scrivania scelta l'idea definito il concept scelto l'idea di business che volete sviluppare qualsiasi sia la cosa a cui state lavorando inizia la fase di elaborazione inizia il lavoro vero e proprio e in realtà lo speech si conclude perché la parte dell'elaborazione è stata trattata ampiamente in molti altri speech delle edizioni precedenti e in molte altre occasioni del freelance camp la cosa fondamentale qual è è che quando lavoriamo in ufficio abbiamo sempre la possibilità di girarci e chiedere al collega vicino di scrivania senti che ne pensi di questa cosa che ho fatto invece da remoto ci sentiamo estremamente soli ma ci sono gli strumenti a questo punto i tool ci vengono in aiuto per arginare questo senso di isolamento di solitudine ognuno ha i tool che preferisce per ogni progetto vi serviranno degli strumenti di project management per organizzare il lavoro che possono essere Asana, Trello, Rike quello che preferite vi serviranno piattaforme di conversazioni per mantenere attive le relazioni per tutta la durata del progetto e anche qui scegliete voi lo strumento più adatto al vostro gruppo e soprattutto vi serviranno strumenti operativi quindi non stiamo parlando solo di documenti ma di tutti gli strumenti che vi servono per realizzare il vostro lavoro che risiedano effettivamente in cloud e che quindi permettano un processo di creazione condiviso c'è una fase 6 che prima non c'era che è ricaricarsi al freelance camp perché lavorare da remoto può essere stimolante può essere bello può essere soprattutto comodo vi permette di lavorare con chiunque ma il rapporto faccia a faccia è difficile da sostituire fino in fondo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti